Grazie Pezzo di merda Meccate questo No Che cavolo No Volevo entrare Così impari a farmi saltare Eeeh Toma Tocca di nome Ah minchia Ma what the f... What the f... Che f... Ci sono entrato Manco il tempo per rendermi conto di niente che mi hanno un p***o Tuo maestro Sceglierò il blu Blu Ah ecco Mi ha mischiato tutte le carte Vabbè a me me va meglio così me ne ha date di meno Malefico To Vabbè grazie Ma Ah col sette cambia le carte No non volevo Andiamo Andiamo Ecco Vabbè più o meno ne ho lo stesso numero di carte Quindi Non so perché ci sono I Raiman sulle carte ma Fa niente Devo per forza pescare Va a cagare Va a cagare Gioca 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 Pino Ah no Ho sbagliato E dai eh Ma ci sono tre tasti diversi Ok To Così impari Che prima mi ha dato il più quattro così Uh Ecco Se le beccate Barbara Devo stare attenta ai tasti Perché Intanto escono tasti strani Pesca Pesca Quindi il sette Permette di scambiare le carte con qualcun'altra E vaffan Mi vendicherò Mi vendicherò Mi vendicherò Ecco brava Barbara Ah 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 Ecco Ah ecco La per forza cambia carte Vabbè Dammi le tue Va Continua a dimenticarmi che il sette c'ha Con la cosa là Che fai Gioca Uh Ah ok È tipo un jolly Ah No Non t'azzardare a riscambiarla con le mie Che mi arrabbia Ecco Ecco Vabbè Anticipala Di nuovo Non voglio scambiarle Ne ho tre Vabbè Stronz 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 Eh Stronz Stronz Che culo Che culo Non c'ho il verde Che culo Continuo a pescare Ok Ok Mantieni il verde Se no Oh Toma 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 Poi parte quella Quella serie Uuuuh 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 Ma scelta il blu Maledizione Vedete ricambiare colore Vedete ricambiare Non ci credo Grazie 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 a tutti Grazie Eeeh What time a tutti ragazzi E benvenuti Da giocherina In questo video Totalmente random Del sabato Come potete vedere Ho acquistato Uno E' un gioco Che si trova tranquillamente Su steam Non costa tanto Perché costa 10 euro E la bellezza Ragazzi Di questo gioco E che si ha la possibilità Di giocare online Anche con I propri amici Per cui Io stavo sinceramente Pensando ad una cosa Di fare magari Qualche partita Con i miei iscritti Perlomeno Con chi Dovesse avere il gioco E con chi Dovesse volere Giocare con me Anche perché Un'altra cosa bella Di questo gioco ragazzi E che c'è la chat Interna Al gioco stesso Quindi non ci sarebbe Comunque bisogno Di programmi esterni Al gioco Per magari Comunicare Per sentirsi C'è addirittura La possibilità ragazzi Di avere la chat video Quindi di mettere Il proprio video Insomma Per vedersi Intanto Durante la partita Con le altre persone E io trovo questa cosa Veramente Spettacolare ragazzi Per cui Io la sfida E la proposta Ve la lancio Ve la butto lì Se qualcuno di voi Dovesse essere interessato Ragazzi Me lo faccia sapere Qua sotto Poi in qualche modo Magari Organizzeremo appunto Per uno dei prossimi sabati Una partita Su uno Con gli iscritti L'altra cosa interessante Che stavo Dimenticando Di dire E che bisogna Praticamente Stringere L'amicizia Sul Insomma Programma Uplay Che si installa Automaticamente Assieme al gioco Quindi Ci si aggiunge Un'amicizia Lì Non bisogna Aggiungersi Su Steam Niente Per cui Direi che Questo gioco Ragazzi Facilita molto Comunque La possibilità Di poter giocare Comunicare Anche durante La partita stessa Con le altre persone Trovo questa cosa Incredibile Spero ragazzi Che questo video Vi abbia Comunque Un pochettino Divertito E che questa idea Possa interessare Quindi questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione E hop Ciao a tutti ragazzi Ciao Cioè ma no Cioè No Non è possibile Cioè Che culo ci ho avuto Che nella partita Dimostrativa Ho vinto Cioè io che di solito Sono sfigata I giochi ragazzi E ve lo dico Io sono sfigata Di solito I giochi E la partita Che ho fatto Insomma Dimostrativa Per il video Ho vinto Ma che C'è Stavattiva Aaaaaah